Le notizie che sono uscite hanno fatto cambiare idea al governo, vista la reazione che c'è stata. Questa è la lettura che io do. A prescindere da questo, comunque la situazione in Libia rimane estremamente critica, estremamente delicata e qualcosa bisogna fare che ci chieda di intervenire a livello di comunità occidentali, non solo di Italia. Un nuovo governo di unità nazionale, piuttosto che il solo governo di Tobruk, qualcosa va fatto. Perché più passa il tempo e più la situazione si incancrenisce, più c'è il rischio di una totale anarchia, soprattutto in certe zone della Libia e quindi della crescita dell'ISIS. Non possiamo destabilizzare la Libia perché la Libia è quel paese che può creare in termini di ripercussioni negative per quanto riguarda anche la stessa sicurezza complessiva di un paese, i maggiori danni a un paese che si chiama Italia. Ci sarà o non ci sarà? Potrebbe non esserci? Presidente, ci aiuti lei a capire? Potrebbe non esserci, però ripeto, ricordiamo quello fratto Bruk e Tripoli, poi lo rivediamo anche nella mappa. Che Tripoli non vuole, bisogna dirlo. Che Tripoli non vuole, quindi da questo punto di vista aspettarsi un accordo. Per combattere l'ISIS, questa formazione di governo di unità nazionale, però siamo lontani, quindi di che parliamo? No, non è l'unico modo, è una delle modalità, è una delle possibilità, è una delle eventualità, ma anche la solo richiesta fatta da Tobruk, che è un governo legittimamente riconosciuto a livello di comunità internazionali, potrebbe essere, e anzi è sicuramente sufficiente. Dopodiché si tratta di coordinarsi con tutte le altre realtà occidentali disponibili, e anche del mondo arabo disponibili, per valutare il da farsi. Però qualcosa deve essere fatto, non possiamo pensare che da sola la Libia riesca a risolvere il problema.